Mancano poco meno di due mesi, ma a Simeri Cricchi i preparativi per il presepe vivente sono già iniziati. Nel comune di poco meno di 5.000 abitanti del Catanzarese, la rappresentazione animata del contesto della natività è diventato un vero evento. Quella di quest'anno sarà l'ottava edizione e la più importante novità rispetto alle sette precedenti sarà la durata, ovvero non più di due ma tre giorni, il 27, 28 e 29 dicembre. Per il presidente dell'associazione organizzatrice, Salvatore Folino, il presepe vivente è riuscito nel suo intento principale, che era quello di riuscire a portare nel centro storico del piccolo borgo tante persone che mai lo avevano visitato in precedenza. I figuranti sono oltre 200, anzi quest'anno pensiamo di superare di gran lunga le 200 unità, siamo all'ottava edizione, è sempre molto difficoltoso allestire il tutto, però c'è veramente tanta gente disposta a farlo e quindi noi l'augurio nostro è sempre quello di cercare di portare più gente possibile nel nostro paese e di far vedere a tutti di quello che è capace di fare il nostro centro storico. La prima novità è quella di regolamentare meglio l'ingresso, poi ci saranno delle novità all'interno, con altre postazioni all'esterno, io tutto non vorrei dirlo perché poi vorrei lasciare un attimino di suspense e di far vedere le persone a Simeri Grichi. Durata a parte, gli organizzatori puntano anche su una più accurata disciplina degli accessi e su un numero ancora maggiore di iniziative di intrattenimento, sia all'interno che all'esterno del percorso, come spiega Filiberto d'Imperio. Ci saranno degli intrattenimenti di artisti di strada per quanto riguarda l'ingresso, gli ingressi saranno intervallati per non creare confusione anche per la sicurezza dei visitatori stessi. Inoltre all'esterno ci sarà attrezzata un'area food per soddisfare le richieste dei visitatori, insieme alle attività commerciali del territorio perché l'obiettivo di un'associazione è sì quella di aggregare ma anche quella di creare un po' di economia al territorio. L'obiettivo è sempre quello, quello di aggregare e di creare un'atmosfera molto simile a quella quando è nato Gesù circa più di duemila anni fa. L'obiettivo dichiarato dell'ottava edizione sarà quello di battere il record delle 4.000 presenze di un anno fa. Il sindaco di Simeri Cricchi, Pietro Mancuso, punta sull'entusiasmo il coinvolgimento di tutto il paese e rivela l'intenzione di ottenere la storicizzazione dell'iniziativa che permetterebbe di acquisire importanti risorse. Abbiamo intenzione di far riconoscere l'evento sotto il profilo della storicizzazione. Esiste una legge regionale molto nota che si occupa e disciplina queste situazioni. Non c'è dubbio, noi l'abbiamo già fatto attraverso una delibera di giunta, a richiedere il riconoscimento dell'evento proprio nella speranza di attingere ulteriori fonti e fare sempre qualcosa di più bello. Questo riconoscimento chiaramente consentirebbe...